Buonasera a tutti da Essenza Giacca venerdì siamo a due giorni dalla Santa Pasqua un saluto a tutte le telespettatrici e tutti i telespettatori di Rossini TV canale 633 del Digitale Terrestre e una grande serata per Essenza Giacca perché anche questa sera abbiamo un ospite importantissimo un ospite che per certi versi si può dire ha fatto la storia dello sport pesarese alla mia sinistra fra Paolo e Alberto che sono gli esperti di pallacanesto che lo intervisteranno durante questa serata Ario Costa Buonasera Allora un saluto anche al pubblico intervenuto numerosissimo come vedete alla mia destra Ario Costa abbiamo detto ha fatto la storia dello sport pesarese ce lo stava raccontando addirittura poco prima di andare in onda ci stava raccontando come mai lui si è trovato a venire a Pesaro quasi senza saperlo pensate che ha scelto tra virgolette di venire a Pesaro piuttosto che andare a Venezia ecco e questa già di per sé è una cosa interessante perché non ci sono traghetti non ci sono cose ma sappiamo che Pesaro poi piace a tutti tant'è vero che tu ancora oggi stai a Pesaro sì permettetemi un appunto al mio ufficio stampa che mi hanno detto senza giacca io ovviamente la giacca non l'ho messa quindi farò un appunto è un equivoco in cui cadono in molti ma è quasi voluto non ti preoccupare beh sì il trasferimento Brescia a Pesaro passando per Venezia fu un come dire un momento abbastanza complicato sarebbe molto lungo da fare comunque io mi sono ritrovato un anno in prestito a Brescia senza saperlo quando ero già stato acquisito dallo allora Palazzetti quindi Scavolini mitico Don Eligio esatto non sapendo nulla perché sempre in quell'estate c'era una promessa che Brescia aveva fatto a Venezia avevano giocato su un'opzione prelazione come per dire se è ragazzo perché ero un ragazzo allora fa un buon campionato se decidiamo di venderlo lo vendiamo o Venezia lo opziona o lo prela o gli diamo la prelazione prelazione tutto questo è andato così nel senso che io feci un campionato della miseria Venezia decide di volermi a tutti i costi e Brescia disse che era esattamente l'opposto insomma si andò in tribunale peraltro hai fatto un campionato da campione d'Europa perché tu nell'83 avevi vinto il titolo europeo con la nazionale italiana una cosa straordinaria e in questa diatriba intervenne Palazzetti e mi acquistò per fortuna e chiaramente mi ricordo benissimo sai Palazzetti comprava tante cose in quegli anni mi ricordo benissimo che ero il 14 luglio allora a quei tempi i tasserimenti si chiudevano tutti il 15 di luglio non c'era questa facilità di mercato e il 14 luglio 1982 era la giornata la finale Italia-Germania è vero e io avevo il signor Carain presidente di Venezia e il presidente di Brescia che si contendevano il sottoscritto e ho detto signori fate quello che volete io vado a casa a vedere la finale in quel frattempo intervenne Eligio Palazzetti e tu sei e lo devo ringraziare per tutta la vita ma tu non stai contento? di venire a Pesaro o volevi? ma io io sono venuto a saperlo l'anno dopo però ecco io lì per lì rimasi un po' stupito io non sapevo assolutamente di essere a Brescia e soprattutto in prestito dalla Scavolini ma quando lo venne a sapere per me Scavolini la Scavolini era una di quelle società che aveva ambizioni abbastanza dichiarate era già una bella Scavolini e quindi per me e poi ovviamente il primo approccio l'ho avuto con Peter Scansi perché all'epoca c'era Scansi come allenatore e mi disse tutto quello che era il programma e chiaramente io ero l'ultima pedina di un mosaico che doveva andare a vincere prima o poi e per fortuna come è stato come è stato sì senti a proposito hai nominato Peter Scansi ma tu hai avuto tanti allenatori che hanno fatto per certi versi la storia della palacanestro Peter Scansi Valerio Bianchini Sergio Scariolo e Alberto Bucci che è venuto a mancare un mesetto fa proprio qui allora questi cosa diresti di ognuno di essi se dovessi dare un'indicazione proprio un aggettivo un ricordo di ognuno di questi quattro personaggi straordinari allora Peter Scansi io l'ho avuto praticamente niente perché poi quell'estate lui fu lasciato a casa però lo conosco molto bene l'ha incrociato diciamo l'ha incrociato poi l'abbiamo incrociato con Treviso esatto vi dico solo questa battuta di Peter Scansi nella finale Scavolini Benetton eravamo lì che stavamo lottando in gara 3 io chiaramente nell'attacco Scavolini ero addiviso ad altre cose non tanto a livello offensivo e c'era Rusconi che mi stava anticipando sforzando spingendo preoccupandosi di essere scritto a un certo punto lì proprio a un metro e mezzo tra di noi mi urla lascialo stare intanto non lo guardano neanche quindi un po' come facciamo noi quando giochiamo a calcetto con qualcuno di noi no lui non lo marcare non importa quindi lasciano si dice nel basket viene battezzato tanto lui non tira e viene battezzato perché e tu punivi con il tuo gancio assolutamente si è pentito il famosissimo gancio di Aron Costa Bianchini beh Bianchini fu quello che ci fece capire che dovevamo vincere e che potevamo vincere lui aveva come motivatore era in assoluto il numero uno non c'erano dubbi d'altronde Bianchini se non sbaglio ha vinto a Cantù ha vinto a Pesano ha vinto a Roma ha vinto cioè in piatte che effettivamente facevano difficoltà a competere contro Milano Bologna che erano le capitali del basket lui come arrivo qui ci disse l'obiettivo è fare la crociata contro Milano dobbiamo abbattere il potere di Milano e tu giocatori diceva ma questo cos'è che no eravamo abituati ad altre cose e lui ci cambiò veramente mentalità ovviamente in un gruppo molto 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 forte poi di quei quattro che abbiamo nominato prima poi Scariolo io lo conosco da quando era bambino perché lui è di Brescia quando sono arrivato a Brescia abbiamo fatto un po' un percorso insieme e quindi è un grande lui doveva arrivare e è arrivato lui ha questa grande capacità lui ha sempre detto io voglio arrivare in NBA e lui ci è arrivato e lui ci è arrivato passando per devo dire anche con un po' di fortuna perché se ricordiamo lo Scudetto che ha vinto qua con noi che poi è stato il punto di partenza e lui si è ritrovato ad allenare la nostra squadra perché non sapevano chi mettere è vero posto giusto al momento giusto lui fu bravissimo perché capì come ci doveva allenare e da lì partì in quinta per arrivare appunto in NBA Alberto credo che solo provoca solo emozione a parlare di lui a pensarla perché è una grande persona un grande tecnico che anche lì ti metteva nelle condizioni di dare il 100% ma soprattutto poi dal punto di vista umano per lui era più importante ed è uno dell'altro allenatore con cui avete vinto un torneo importante la Coppa Italia nel 92 mi pare poi tu hai avuto anche dei compagni di squadra che noi qui andiamo un po' così a nominare vediamo Gracis Vecchiato Zampolini Matteo Minelli che ci troviamo a sottolineare Pesarese Matteo Minelli salutiamo Matteo Minelli che faceva parte di quella squadra straordinaria non l'abbiamo trovato con la maglia della Scavolini tu dirai mettere Matteo in mezzo a questo ma noi ce lo mettiamo perché il nostro amico della nostra età è cresciuto con noi ci sta ci sta assolutamente ci sta perché io credo che i giocatori la squadra è squadra perché appunto è una squadra e tutti possono portare il loro il suo il loro mattoncino credo che Matteo alzava da matti la competitività durante gli allenamenti cosa essenziale e poi quei minuti o quei più di minuti che giocava credo che ha sempre fatto il suo quindi assolutamente è stato fondamentale anche lui e noi poi qui stiamo mandando un filmato adesso che la regia ci farà vedere di un compagno di squadra tuo questa è un'azione che tu non hai vissuto perché era l'anno due anni prima che tu venissi a Pesaro ma questo canestro è rimasto nella storia della palacanestro pesarese perché è quel famoso tiro di Zampolini che ancora Bologna quando lo vedono dice Zampolini tira 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 e quindi Zampolini era veramente una beh sì Zampo era io direi l'anima della squadra l'anima simpatica l'anima l'anima proprio giocosa esatto sì e anche lui di un talento clamorodo secondo me lui con qualche difettuccio perché sapeva divertirsi un po' troppo amava la vita di quegli anni un po' troppo la vita bella e per essere un atleta insomma doveva stare un po' più attento si presentava sempre con quei due duetti in più che non andavano bene sei stato buono due però lui secondo me come talento io ho sempre detto e sempre lo dirò che noi abbiamo avuto la fortuna i tifosi pesaresi io come compagno di squadra eccetera di avere due giocatori in squadra che per me uno soprattutto è stato il giocatore più forte di sempre in Europa che è Walter Magnifico ecco infatti guarda ci sei arrivato da solo perché noi abbiamo trovato questa foto bellissima tua con Walter quando noi sentivamo parlare di Magnifico e Costa Pesaro era veramente di quelle cose coppie come Pulici e Grappiani nello sport queste cose imprescindibili oppure anche come ci siamo detti anche Bud Spencer e Terencey perché Bud Spencer erano un binomio assolutamente funzionante sì beh allora parliamo del supposto che fra l'altro scusami ormai si si pronunciavano sempre insieme Costa e Magnifico era un binomio indissolubile anche a livello proprio lessicale difficilmente dicevi Magnifico o Ario Costa era Costa e Magnifico sì mi emoziono perché con Walter c'è un rapporto fantastico io ho sempre detto che conoscevo meglio lui di mia moglie perché siamo stati insieme una vita perché abbiamo diviso sul campo e fuori dal campo come si dice gioie e dolori ma più gioie che dolori siamo stati secondo me anche la coppia perfetta di quella squadra e siete ancora tutti e due a Vesco e tu di sciabola esattamente bravo arrivava a questo dove quello che non poteva fare lui facevo io e viceversa eravamo un incastro perfetto e quindi mal via di questo ripeto per me lui è stato il primo giocatore moderno cioè oggi sarebbe ancora ai vertici perché è stato veramente il primo giocatore moderno della pallacanestro di oggi Walter Magnifico tirava da tre faceva tutto aveva spallacanestro un tocco di palla clamoroso due metri e otto e vi dico anche questo io e lui siamo stati insieme noi ci siamo conosciuti al Simmental Milano con Bocconcelli Rubini Gamba che ci fecero un provino lui era bianco come storo palone io ero imbranato come non so che cosa e ci fecero sto provino e ci dissero appunto che io ero un po' imbranatello lui era troppo magro e qui c'è una foto di Ario ai tempi della Simmental che siamo andati a trovare da giganti del basket e quindi e quindi ci siamo conosciuti non ricordo ma sarà stato il 76 75 76 e da lì bene o male siamo tutti Walter è cresciuto con la VL e la VL è cresciuta con Walter c'è stata una maturazione del giocatore e della squadra come mentalità come tecnica come talento tutto quanto sì assolutamente hai detto una cosa che io ho sempre pensato che Walter era veramente un giocatore che è stato di rottura il basket ha avuto vari stadi di evoluzione e Walter è stato quello che in un certo punto ha fatto vedere che i lunghi sopra i 2 metri e 8 potevano cominciare a fare altre cose poi lo step successivo secondo me è stato Tony Kukoc che era lo stesso 2 metri e 8 2 metri e 4 che addirittura era un regista un playmaker e oggi è diventato quasi usuale in certi livelli avere giocatori di questo tipo io assolutamente condivido io sono uno che non mi piace parlare quando ti fanno le domande ah ma venti anni fa trenti anni fa tu a chi ti somigli abbiamo cominciato bene allora no 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 dai sto scherzando non l'avete fatto però ecco di Walter secondo me oggi sarebbe ancora attuale non dici no ma ovviamente fisicamente magari un po' più di fatica perché oggi prima di tutto sono atleti clamorosi e lui di atletismo ne aveva ma non era un fenomeno ma a livello di talento e di tutto il resto ripeto oggi lui potrebbe tranquillamente essere ancora protagonista e oggi non sarebbe in una squadra italiana probabilmente ma anche quello è vero perché se ci è andato Bargnani ha fatto 11 anni di NBA Bargnani credo che Magnifico ne poteva fare 22 senti Paolo ha nominato tu hai mai avuto una possibilità NBA? sì fui cercato così diciamo invogliato a provare a fare un provino all'epoca si faceva neanche oggi si fanno i camp allora si faceva questi provini ma disse no grazie non mi interessava Ario ha preferito restare a peso dove ancora tutto oggi perché se no magari finivi come leggevo attivamente nelle varie interviste dell'addio di Ginobili che quando lo selezionarono per NBA diceva ok ti ha preso San Antonio e lui la prima cosa ha detto prendo la cartina non so dove sia più o meno potrei aver fatto la stessa cosa potevo fare senti Paolo ma tu volevi fare no questo chiedere a Dario Costa se magari poteva riuscire anche in un altro sport mi sembra vero e vediamo perché ma si fra i vari sport più strani sport forse è una parola grossa definirlo che abbiamo che abbiamo scovato noi pensiamo che tu in questo sport potresti avere delle grandi possibilità perché hai le mani come i badili e nessuno ti può arrivare alla faccia questo è il campionato mondiale di schiaffoni che si svolge in Siberia il campione è tosto però noi pensiamo che tu potresti competere dovrei mettere su qualche chilo però probabilmente sì probabilmente le mani effettivamente non mi mancano ecco qui c'è un voglio vedere se poi puoi incassare come incassatore come ti compone come vedete questo era per dire che effettivamente gli sport sono tanti a Rio potete trovare anche uno nuovo e poi avete visto il tipo con la barba effettivamente somigliava a Bud Spencer quell'altro ha fatto la fine di mescal del tipo del famoso sketch però c'aveva anche una sua bella tecnica perché gli preva proprio la la misura la distanza l'altro era un po' più artigianale Paolo tu prima hai nominato a Dario Tony Cucco abbiamo fatto abbiamo preso qualche altro giocatore straordinario di quegli anni Oscar McAdoo Frederick che peraltro è stato anche a Pesaro poi dove ha sfiorato anche lui uno scudetto anche questi giocatori Oscar in questa tenuta quasi abbastanza potevi scegliere una foto migliore ma sai che non si trovano è difficile sono difficili da trovare però è questa di Oscar col 18 con questa canottierina veramente ci riporta a quegli anni detto la mano santa ecco tutti giocatori straordinari sì avete scelto veramente il top del top perché McAdoo credo che con tutto quello che aveva fatto in NBA quindi gli annelli vinti con i Lakers eccetera eccetera si è presentato in Italia qualcuno poteva pensare ma questo costanto verrà qui invece era il primo che si buttava sui palloni vaganti fu un esempio l'ottava proprio mi ricordo Oscar Oscar era un realizzatore era un realizzatore clamoroso noi abbiamo avuto la grande fortuna anche qui se vi ricordate i quarti di finale del primo scudetto Caserta Pedro Bella lui sbagliò due tiri liberi quasi a uno o due secondi alla fine sotto di uno noi no scusa sopra di uno noi e ci permise di vincere poi Kukoc abbiamo già detto credo che anche lui sia un giocatore unico in tutto il mondo in tutta Europa e Frederick 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 era un giocatore fisicamente anormale per quei tempi un grande realizzatore un grande tiratore che veramente sapeva usare il corpo come pochi esatto poi scusami a proposito di tiratori faccio una domanda di quelle classiche così un po' quelle che non ti che mettono in difficoltà ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Peterson quando l'abbiamo intervistato alla festa dello sport a Trento di tutti i giocatori che hai con cui hai giocato o anche quelli che hai avuto come dirigente quello a cui affideresti in assoluto l'ultimo tiro io Peterson mi aspettavo che rispondesse D'Antoni o Maicadu e l'ho detto Roberto Premier tutta la vita non è un caso che ce l'abbiamo qui in questa immagine beh sicuramente tu diciamo che sul podio di sicuro è una domanda difficile difficile bisogna un attimino si può anche valere dalla facoltà di una risposta no no forse ad Artis quest'anno no no ad Artis no Artis è già andata bene una volta allora facciamone uno recente tutto sommato recente nella mia gestione da presidente della VL è Tarner Tarner ok Tarner che ci fece vici se ricordate con Virtus Bologna qui in casa partita decisiva su una rimessa clamorosa quel quello noi non è che ci ricordiamo noi te l'abbiamo tirata fuori ecco noi te l'abbiamo proprio tirata fuori questo questo al di là dell'esecuzione del momento del padre però lui io affiderei il mio ultimo tiro a lui più di una volta e l'altro adesso vi dico una cosa perché se avete trovato anche questo esco e vi ci stringi la mano Carlo Spillare un giocatore che ha giocato che ha giocato tanti anni in Serie A tra Venezia e Brescia era un tiratore micidiale micidiale all'epoca dei Marietta vi dice niente Marietta Torino ecco era un giocatore di quelli anni 80 fine fine 80 noi avevamo negli anni 80 un giocatore di palacanestro pesaro un americano un po' particolare che si chiamava Terry Durod che tu hai incrociato per un anno Terry Durod era un giocatore che non sempre era in partita ma quando era in partita come quella famosa partita contro Bologna ti ricorderai cosa ha fatto sì ma ce ne sono adesso io ho tirato fuori Spilare per dire uno veramente che magari sconosciuto ma che sapeva fare canessa era uno specialista io vado contro Peterson e io a D'Antoni li lo farei fare l'ultimo tiro sì eh ecco a proposito di D'Antoni perché non è tanto che lui è un gran tiratore ma c'ha i cosiddetti per farlo per farlo noi abbiamo tirato fuori questa foto un'altra coppia ce n'è un altro un'altra coppia straordinaria c'è un altro non mi veniva ecco non ti veniva anche loro due che furono una coppia incredibile finché poi no si ruppe questa coppia e Sylvester venne a Pesaro però Sylvester non vinse lo scudetto con Pesaro andò via subito prima lo meritava lo meritava l'avrebbe meritato infatti però un po' gli scudetti vinti sono anche merito suo sono anche merito suo fece crescere tantissimo la guerra di quegli anni fu protagonista di un episodio che tutti ricorderanno quell'anno incredibile in cui giocavamo con Caserta diciamo che non è andata proprio a finire a pallacanesto ma è andata a finire a qualcos'altro e queste sono delle immagini che ancora vederle sembra di essere lì nell'ancar un altro mondo un altro mondo un altro mondo eppure è successo quello che succedeva quello che succedeva magari succede anche adesso però effettivamente quella volta non ce l'aspettavamo poliziotti in campo se vi ricordate lui è una persona era un ragazzo squisito un ragazzo d'oro è solo che quando entrava su quel rettangolo ma anche durante la settimana non solo nelle partite lui vedeva solo la sua forza il suo tutto non conosceva più nessuno e quindi un vero Yankee un vero americano proprio di quelli che oggi magari andrebbero d'accordo lo stesso tipologia la settimana scorsa abbiamo intervistato Moreno Torricelli ospite al Panathon Club e lo stesso raccontando di suoi vecchi compagni parlare così di Silvester viene in mente quello che lui diceva di Paolo Montero dice in campo la più grossa carogna che potessi avere fuori dal campo lui veniva a prendere mia figlia lo portava fuori tu riposati ci penso io la persona più squisita del mondo il campo trasforma io volevo chiederti abbiamo parlato soprattutto di tiratori ma c'erano all'epoca i famosi centri americani qual è stato quello più difficile da marcare o che ti creava più problemi perché tu eri il nostro difensore di centro area eri il nostro chiellino anche qui allora di sicuro io avevo difficoltà o ho avuto difficoltà enormi a marcare Shakerford quello che poi vinse il campionato con Caserta perché era veramente difficile da prendere ma un altro al di là di Meneghin eccetera Meneghin sinceramente non mi faceva tanta paura Meneghin dovevi essere bravo a non subirlo non fisicamente ma a livello di impatto a livello psicologico il codino Meneghin che abbiamo tirato esattamente perché lui ti faceva subito capire che lui era se tu gli rispondevi di pan per focaccia non è che era poi così irresistibile un altro Joe Bignon non so se ve lo ricordate Joe Bignon ha giocato a Livorno ha giocato nella Virtus Bologna un centro un po' atipico perché era 2 metri e 2 2 metri e 3 ma ti sguillava da tutte le parti era sempre a rimbalzo prima di te veramente un giocatore difficile poi sarebbe facile dire Sabonis sarebbe facile perché a livello come dire di nazionale non incontrati tanti ma di sicuro ogni domenica era era una lotta perché sono passato da Dawkins a Swineter anche qui non so se ve lo ricordate centro cambio di Jabbar ai Los Angeles e giocò due anni a Udine era una montagna un bianco una montagna ed erano momenti difficili Mochevicius riusciresti a marcarlo? lo marcheresti bene? facile facile non ci sono più i pivot di una volta senti Ario poi c'era un giocatore di quegli anni che noi ci ricordiamo tutti Alessandro Fantozzi che era giocava a Livorno era sicuramente un giocatore dalle qualità straordinarie giocò in nazionale cioè fece tanto però questo cognome in effetti un po' lo penalizzava perché lui arrivava a Pesano e io mi ricordo Inferno Bianco Rosso tutti vai con Filini vai di qua vai di là e quindi lui un pochino in difficoltà ci andava in certi momenti ma perché Fantozzi Fantozzi Paolo Villaggio ha distrutto due categorie Fantozzi come giocatore di palacaristro e tutta la categoria dei ragionieri che fino all'avvento di Fantozzi era una categoria di lavoro stimatissima tu ne sai qualcosa stimatissima che da Fantozzi in poi è diventata una categoria fantossiana tu ne sai qualcosa beh sicuro è stato un buon giocatore un ottimo giocatore un ottimo playmaker Livornese quindi anche abbastanza dire come dire tosto di cuore proprio di cuore i ricordi che ho anche lui era compagno di squadra di Carrera di Flavio Carrera hai ragione che come me aveva un po' le orecchie evidenti e tutte le volte che l'inferno bianco rosso ci mettevamo sui tiri liberi e l'inferno bianco rosso cominciava il corretto a prendere in giro mi guardava e dice no e Fantozzi ogni tanto cercava solidarietà ed ecco l'inferno bianco rosso che siamo andati a trovare in queste immagini ma vi immaginate oggi in un palasporti i fumogini le cose eppure succedeva questo negli anni 80 Pesaro arrivava l'inferno bianco rosso con fumogeni era un tifo però straordinario sì e loro veramente erano loro come tutto il palazzo erano veramente un aiuto un aiuto clamoroso noi ci sentivamo come dire protetti ci sentivamo poi c'era anche il momento che questi invece Ario sono i tifosi dell'Ajax l'altra sera non è l'inferno bianco rosso è una cosa abbastanza simile come vedete questo è quello che è successo in Olanda mercoledì sera martedì sera non fatelo vedere ai giuventini ma per il re ok io mi giro però effettivamente quel tifo quell'ambiente così caldo era un qualcosa che io mi ricordo che a volte alla palla 2 guardavi nella faccia il tuo avversario chi saltava ed era più preoccupato a capire cosa poteva succedere che tutto il resto che tutto il resto veramente era un grosso aiuto poi ripeto a volte anche negativo perché si sentivano molto bene la pressione le contestazioni insomma ce ne sono state non è che abbiamo fatto io ho fatto 12 anni sono stato quello che ha fatto di meno ma 12 anni quindi ahimè quanto era bello quindi conoscevamo tutti io mi sedevo a fare stretching in bordo campo allora deve arrivare questo questo quello nome cognome sì quindi allora credo che ci sia una domanda da parte di uno dei nostri spettatori del pubblico Claudio Claudio cosa vuoi chiedere a Dario? una cosa un po' più attuale ecco visto che il prossimo anno ospiteremo le Final 8 di Coppa Italia qui a Pesaro per lo meno riusciamo a costruire una squadra per partecipare noi abbiamo messo anche proprio l'immagine delle Final 8 anche per riportarci infatti sull'attualità Claudio è giovane quindi lui di tutto quello che abbiamo fatto fino adesso non sa lui poteva entrare adesso Claudio ma è ovvio che innanzitutto pensiamo a salvarci mancano quattro partite e dobbiamo vincere almeno uno se non due detto questo che lo faremo pensare di arrivare al Final 8 bisogna un attimino che si rivedano certe cose perché il budget attuale secondo me non ce lo permette poi se siamo così bravi a trovare giocatori talmente bravi che costano poco che ci permettono di non è detto per l'amore di Dio però credo che dobbiamo consolidare il nostro budget aumentarlo un pochino e di sicuro quello è uno stimolo importante per noi e mi auguro per qualche imprenditore anche che la città e i giuditori della città ci seguano con questa opportunità ci presenti in un attimo brevemente la partita di domani beh la partita di domani è una partita importantissima importantissima in un momento che devo dire che noi stiamo bene malgrado abbiamo perso male a Cremona e invece abbiamo perso bene a Trento ma il risultato non cambia abbiamo perso però stiamo bene ho visto una settimana di allenamenti decisi è arrivato il ragazzo nuovo Wells c'è molto cosa ti aspetti da questo mi aspetto mi aspetto sicurezza mi aspetto ecco che all'ultimo tiro lo darei volentieri a lui mi aspetto questo adesso con Lions avevamo già un po' migliorato questo aspetto anche se poi lui ha avuto un po' alti e bassi e anche della sfortuna perché se domenica era in campo sul finire io sono convinto che avremmo vinto quindi ecco mi aspetto una squadra più quadrata più capace di gestire padoni importanti in finali esatto e anche un po' di caronia in difesa perché lo è fisicamente ben messo è ovvio è appena arrivato mancano quattro partite tutti questi bei discorsi che poi in realtà si traducono in difficoltà oggettive però insomma è ovvio che giochiamo contro secondo me la squadra in questo momento più forte e più in forma del campionato vengono da cinque partite vinte consecutivi sono in finale di Coppa sì ho sempre considerato Sassari tra le prime quattro inizio campionato poi vicissitudini hanno fatto sì che sono partiti da dietro oggi vedi perché Pozzecco probabilmente ha saputo leggere i difetti della squadra li ha migliorati con il suo entusiasmo con il suo modo di essere vedi i giocatori che sono veramente forti in tutti i ruoli però lo sport è bello perché nessuno parte sconfitto o vincitore quindi vediamo non è solo è sempre questione di fatturati Marco volevi forse fare una domanda ad Ario? sì Ario i senza giacca sono famosi per i loro spronostici dacci la tua favorita per lo scudetto Sassari Sassari a sorpresa a sorpresa quindi non è poco poi Sassari è già stato campione non è stato campione è ovvio che partirà da lontano perché per pur che adesso vinca sta lottando giusto per l'ottavo posto esatto partirà ottavo settimo sesto posto quindi un percorso però ripeto la squadra a livello di roster a livello di nomi del roster di allenatori entusiasmo capacità non vedo perché auguriamoci che i punti li prenda con le altre e non con noi certo che se Milano dopo la magra figura in Eurolega perde anche il campionato la chiamiamo OBS la chiamiamo Juventus Juventus in Champions League la chiamiamo la chiamerò più Armani OBS Terranova Lions giocherà domani? sì sì dovrebbe esserci sì ascolta ma Lions è un chiacchierone? molto si vede si capisce gli piace positivo si è portato a pranzo e a cena tutti i suoi compagni organizza ha dato quel come dire quel piacere non che prima non ci fosse per l'amore di Dio però ripeto provate a immaginare 10 ragazzi che per la prima volta vanno in Europa escono da loro casa si ritrovano devono affrontare una stagione difficilissima sono giovani no si fa fatica è arrivato lui ok ha cominciato subito a entusiasmare lo spogliatoio a essere un po' più convinti ottimisti infatti noi abbiamo avuto ospite Simone Zanotti e lui ci raccontava un po' anche lo svolgersi della vita sua al di là dell'allenamento e parlava di una vita molto tranquilla molto ritirata sì che noi abbiamo pensato o non ce la racconta giusta o effettivamente ci abbiamo creduto anche con sorpresa allora per chiudere che ci abbiamo alla conclusione Ario ti volevo chiedere un piccolo tuo commento anche sulla nazionale quindi sulla nazionale italiana che mai come oggi teoricamente potrebbe essere molto forte poi speriamo che i risultati vengano cosa pensi tu di questa nazionale fatta di tanti giocatori che poi in realtà in Italia non giocano allora io penso una cosa che questa è una domanda a cui ho risposto tante volte e qualcuno ha storto anche il naso allora secondo me la nazionale forte è quella che vince io ho vinto quindi facevo parte di una nazionale forte eppure è vero che mi contraddico perché secondo me e questo un po' secondo me da qualche anno a questa parte l'Italia non ha mai avuto così tanti giocatori competitivi perché se partiamo da quelli che giocano in NBA se andiamo a Akhet se andiamo a Melli se andiamo a una serie di giocatori domani vedremo purtroppo Polonara che per noi è un giocatore molto forte che deve giocare nazionale ci gioca un po' su e giù quindi io a me sembra strano che ci siamo rimasti quasi avevamo paura di perdere con l'Ungheria ma non esiste ci siamo qualificati per un mondiale sembra che abbiamo fatto chissà che ma con quella squadra con i Galinari Berinelli è impossibile quindi secondo me finalmente la nazionale ha trovato il miglior allenatore che l'Italia può avere che è il mio Sacchetti e piano piano secondo me qualche solidazione ce la possiamo togliere Sacchetti peraltro avversario anche lui di quegli anni grande compagno grandissimo avversario grande compagno d'avventura a me è una persona compagno europeo sì 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 ma poi anche compagno nel scalare le montagne in bicicletta quindi sembrerà strano ma anche così te la fanno su misura la bicicletta a proposito di scalare le montagne noi ci occupiamo anche di calcio siamo calciofili sai che senza giacca si occupano di calcio io non so se tu hai visto la partita di due giorni fa o hai sentito qualcosa di questa partita fra Tottenham e Manchester City probabilmente molti di noi possono dire la partita più bella di tutti i tempi o comunque siamo molto vicini perché il calcio italiano è così lontano da questi livelli se tu ti senti di poter dare una tua idea un capirlo per quale motivo il calcio italiano che dominava è stato comunque oggi di fronte a spettacoli del genere sembra di vedere la terza categoria io dico la mia chiaramente allora io credo permetto che non ne capisco molto però sarei stato molto più bravo sul ciclismo però lì ancora ancora ci difendiamo io credo che allora innanzitutto perché l'Italia non è a quei livelli io credo che ci sono dei cicli dei cicli dove sei molto forte molto competitivo e dei cicli perché devi ricostruire devi ricostruire quindi fai fatica a mantenere sempre quel livello là di sicuro il calcio inglese da sempre credo che sia un calcio più divertente più portato a giocare a viso aperto senza tante storie e quindi tutto questo fa sì che magari ci sembra più bello quello degli altri perché è un po' un nostro difetto anche questo in realtà dico che comunque ahimè quest'anno la Juve è uscita io sono milanista genuano ma la Juve io tifo per tutte le squadre italiane quando sono impegnate in competizioni europee quindi la Juve quest'anno è uscita ai quarti ma non dimentichiamoci che ha fatto tre finali di Coppa di Champions non ne ha vinta neanche uno e lo so però intanto cominciamo a derivare in finale e una italiana c'è stata per tre anni gli juventini ti stanno correggendo due due ci tiene molti l'interista scusa ho fatto un regalo ma tanto non c'è due senza tre quest'anno erano convinti di andare quest'anno era la terza e quindi non direi proprio che c'è tutta questa grande differenza poi c'è l'altra se io non l'ho vista onestamente Tottenham Manchester ma ti consigliamo di andare su Youtube riguardartela tutta perché dopo un quarto d'ora stava 3 a 2 sembrava una partita di basket quindi una cosa del genere uno spettacolo dentro e fuori dal incredibile dal campo io dico di non piangerci ad osso di pensare che comunque siamo tra i primi al mondo ok perché io apro un'altra velocissima quando si parla di sport io credo che l'Italia è presente in tutte le discipline ad altissimo livello e siamo una nazione e siamo una nazione piccolissima se pensiamo proporzionata al potenziale che c'è agli Stati Uniti la Russia eccetera 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 noi siamo 60 milioni togliamo vecchi e bambini eppure siamo primi qui prima là però probabilmente in questo momento è un pochino una crisi di sistema e infatti è lo sport di squadra che soffre mentre magari i singoli grandi talenti emergono ma lo sport di squadra fa fatica Alberto Paolo volete fare una domanda conclusiva a Dario siamo proprio in chiusura un minuto proprio per quest'ultima domanda sì torniamo al basket la curiosità è noi viviamo qui sull'Adriatico nell'altra sponda dell'Adriatico continuano a crescere talenti clamorosi nel basket non so vengono gli ultimi Edoncic Jokic piuttosto che Bogdanovic perché tutti di là tutti no ma sicuramente una è la domanda di sempre è la domanda di sempre che ci siamo fatti noi che andavamo a giocare contro l'ex Yugoslavia o Russia o giù di lì e ce lo siamo sempre chiesti perché veramente il mare il mare questo questo mare l'Adriatico quando arrivi di là c'è un'altra aria c'è una banale giustificazione ma di quei tempi adesso secondo me non è neanche più così all'epoca avevano molto più fame di noi e quindi si dedicavano veramente in tutto e per tutto con grande delizione con grande rabbia e volontà per arrivare forse noi eravamo un po' più viziati noi ci accontentavamo perché comunque no il benessere tutto bene però ripeto questa è una roba che ormai è superata può essere che oggi ci sia un'attenzione diversa a livello giovanile anche ci hanno più coraggio ci hanno più coraggio di buttare nella mischia un giovane noi siamo sempre lì con la paura di perdere quindi se perde perdo il posto eccetera eccetera allora su questa immagine bella che abbiamo d'archivio dall'estate scorsa quando il mitico Darenday è venuto a Pesaro e ha fatto questa intervista la foto con i nostri due amici senza giacca noi chiudiamo con l'ultima domanda di Alberto non è una domanda non è una pronostico chi vince l'Eurolega eh diciamo finale CSKA Fenerbahce ok poi chi vince come dico sempre io Hackett contro Datone che sono sull'1-1 nel nei play-off nel rispettivo play-off bene i senza giacca ringraziano il presidente della UEL Ario Costa siamo stati davvero orgogliosi e contenti di averti con noi è stata una bellissima proprio chiacchierata siamo andati abbiamo spaziato ringraziamo il nostro pubblico che credo che meriti un applauso Ario da tutti noi per questa auguriamo a tutti coloro che hanno seguito la trasmissione di questa sera passare una felicissima Pasqua noi ci risentiremo al più presto subito dopo le vacanze di Pasqua i nostri appuntamenti saranno pubblicati sulla nostra pagina Facebook ringraziamo tutti vi ricordiamo di mettere i like alla pagina dei senza giacca e alla pagina di Rossini TV salutiamo tutti buona Pasqua a tutti da Antonio Paolo venite numerosi domani alla vitriarena per la partita della VL importante grazie a tutti e auguri di buona Pasqua a tutti quanti buona serata a tutti da Alberto ciao a tutti ragazzi buona serata ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti